Torna per la quarta volta a Bologna dal 28 al 30 settembre il Festival Francescano che festeggia la sua decima edizione. Dalla preghiera composta da San Francesco dopo aver ricevuto le stigmate a Laverna proviene il titolo che fa da sfondo al programma di quest'anno Tu sei bellezza. È il rapporto con Dio e con gli altri che genera bellezza. Sarà sempre piazza maggiore lo scenario principale del Festival che prevede numerosi spettacoli e conferenze. Sono numerose anche le attività di piazza e di intrattenimento dedicate a tutta la famiglia e proprio nel contesto del Festival si svolgerà anche la tredicesima edizione della Città dello Zecchino. Durante un mese dal 15 al 18 settembre anche la Pinacoteca Nazionale di Bologna offrirà un percorso tra le opere provenienti dalla Basilica di San Francesco mentre fino a marzo 2019 il Museo Civico Medievale esporrà i libri corali francescani. Il Festival è organizzato dal Movimento Francescano dell'Emilia-Romagna in collaborazione con la Diocesi e il Comune di Bologna e si avvale del patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana della Città Metropolitana di Bologna della Regione Emilia-Romagna. Anteprima del Festival sarà un incontro che si terrà nel tardo pomeriggio di venerdì 26 settembre in Piazza Verdi con la partecipazione dell'Arcivescovo Zuppi, del campione di basket Giacomo Galanda e della rock band The Sun. Nato nel 2009 per celebrare gli 800 anni dell'approvazione della prima regola di San Francesco, il Festival Francescano desidera riscoprire, far conoscere e attualizzare e concretizzare i valori di San Francesco nella convinzione che possano aiutare ad affrontare e a superare le tanti crisi di identità, di politica, di valori, di ambiente che caratterizzano la nostra quotidianità. La figura di San Francesco continua ad attrarre credenti e non credenti, persone affascinate da quella cultura del rispetto per gli altri, per se stessi, per il creato, della quale il Santo Patrono d'Italia è incarnazione. Grazie a tutti i nostri spettatori di San Francesco,